Florenzia Locascio è una rappresentante di economia di comunione, una realtà ormai consolidata che è internazionale e presente in tanti luoghi del mondo e quindi intanto vorremmo sapere un po' di storia, quando siete nati e che storie avete. Grazie Luca, l'economia di comunione nasce nel 91 in Brasile, nasce come una espressione dentro del movimento dei focolari, dentro di una comunità del movimento dei focolari quando la fondatrice di questo movimento nel suo viaggio a Brasile a trovare la sua comunità, la comunità del movimento, viene a sapere che tante delle persone che erano vicine alla comunità vivevano nelle favelas. Lei dall'aereo vede questi grattacieli con intorno le favelas, questa desigualianza che fa un forte impatto per chi non l'ha visto ancora, allora fa un invito alle comunità del movimento, li presenti, di far nascere delle aziende per avere più richieste da condividere, anche se la condivisione dei beni non era sufficiente, perciò lei dice facciamo nascere nuove aziende per avere più da condividere, includiamo queste persone che sono in queste situazioni nella creazione di richiesta, ma anche dobbiamo mettere la persona al centro dell'azienda e cominciare ad agire sulle cause di queste desigualianze. Questa è stata la prima risposta al problema specifico di questa comunità. La sua proposta si diffuse subito in tutto il mondo nel movimento e poi va oltre le frontiere del movimento dei focolari. Oggi è una comunità di imprenditori, ma anche lavoratori, anche consumatori, studiosi, studenti, persone che portano avanti dei progetti sociali, di sviluppo, che credono in una nuova visione dell'economia, che ha la persona al centro, che crede nella reciprocità e che nasce dai poveri, non nasce da un tavolino, nasce da fare qualcosa per il fratello che è accanto a te che sta soffrendo. Cioè dal basso verso l'alto. La teoria è veramente molto affascinante, ma nella pratica cosa significa? Nella pratica ci sono 26 anni di storia, perciò si è pluralizzata dopo di questo primo lancio. Nella pratica ci sono più di 800 aziende che aderiscono al progetto di economia di comunione e condividono parte degli utili, ma anche creano posti di lavoro e creano delle risposte sostenibili per i bisogni del proprio territorio. hanno uno sguardo sia locale che internazionale. La condivisione degli utili aiuta un po' a questo, a una giustizia internazionale, globale, mentre per il territorio si danno delle risposte alle povertà concrete. Per darti un esempio, un'azienda che potrebbe essere tradizionale per il suo prodotto di distribuzione di materiale di costruzione dell'Argentina, si è messa insieme con altri attori locali, altri grandi imprenditori e anche attori del settore pubblico e privato per sviluppare una rete commerciale per i piccoli produttori del loro territorio, dando così lavoro a più di 100 piccoli produttori. Poi un'altra azienda delle Filippine, che quando sente questa chiamata dell'economia di comunione a fare qualcosa per gli ultimi, era una banca, crea dei prodotti ad hoc per i più poveri, per quelli che erano esclusi del mercato finanziario, sia micro crediti, micro assicurazioni, ma anche formazione per i piccoli imprenditori che ricevono i crediti per cominciare le proprie attività. Siamo in tema di, oggi è la giornata mondiale della terra, siamo in tema dell'agenda 2030 e 17 obiettivi di sviluppo sostenibili, mi sembra che voi siate nel centro e trasversali a tantissimi di questi obiettivi, intanto siete molto sostenibili, cioè tutto parte dalla sostenibilità sia ambientale che economica, se ho capito bene. Quali altri obiettivi incrociate nei vostri lavori? Come si diceva, la proposta è economica non solo per le aziende, ma in senso largo. Tutti siamo attori economici, perciò per cambiare l'economia la dobbiamo cambiare tutta, per cambiare la società dobbiamo cambiare tutta l'economia, e per cambiare l'economia dobbiamo cambiare consumo, risparmio, investimento, produzione, povertà, cioè tutti i fronti e su tutti i fronti cerchiamo di agire. Per darti un esempio del consumo responsabile, tutte le campagne che si fanno nel mondo di supporto al movimento slot mob contro il gioco d'azzardo o per il consumo responsabile, per esempio aziende di turismo che fanno formazione ai loro turisti perché il loro viaggio non abbia un impatto ambientale o sociale negativo. Oppure anche la desigualianza, senz'altro, questa è stata la scintilla che ha svegliato la vocazione di tanti imprenditori o la lotta contro la povertà. L'aiuto, cerchiamo non sia assistenzialista, che sia in un approccio di parità, di reciprocità, dove l'altro è quello che cammina con le proprie gambe e questi aiuti sono semplicemente per favorire le condizioni perché possa farlo, creare lavoro. Non ti ho detto dell'ambiente, in realtà negli anni 90 non era tanto chiaro il legame tra il sociale e l'ambientale, sembravano due correnti diversi. Laudato si un po' ci ha aperto gli occhi a questa intuizione che tanti avevano che non si può sentire il grido dei poveri e non sentire il grido della terra o viceversa. Perciò cerchiamo ora di avere un approccio integrale e che mentre ti occupi della realtà sociale dei più poveri lo fai in modo sostenibile, mentre ti occupi della terra lo fai anche perché i più poveri abbiano uno sviluppo, una dignità. Hai anticipato, infatti la domanda era proprio sulla Laudato Si, però mi dai l'assist per farti probabilmente l'ultima domanda. Quindi da una parte è un movimento che crea economia, imprenditoria, quindi proprio pancia a terra, crea lavoro, lavora tutti i giorni. Dall'altra crea cultura e la Laudato Si in questo senso credo che vi abbia dato un input notevole. Sì, sin dall'inizio quando si lancia l'economia di comunione Chiara dice questi soldi, questi profitti condivisi devono andare da una parte per rispondere ai bisogni dei più poveri, al grido degli ultimi. Un'altra parte di questi soldi deve essere per promuovere una nuova cultura, per creare il pensiero, creare la mentalità e il sistema perché senza persone che pensino diversamente non ci sarà un sistema nuovo. E un'altra parte è investito nelle aziende e nella creazione dei posti di lavoro, di nuove aziende. perciò dall'inizio che questa promozione culturale è stata molto forte, si sono fatte più di 400 tessi, ci sono corsi di laurea e corsi legati anche a diverse università del mondo, tra cui la mia tessi che mi ha fatto anche entrare un po' di più in questo mondo, scuole per giovani. Però in tutti i livelli quello che possiamo fare per creare cultura sentiamo che è tanto importante quanto è la pratica, ci dà sostenibilità a lungo termine. Molto bene, grazie Florenza Locascio di Economia di Comunione.